Allora vado un po' a braccio perché le prime slide non si vedono. Di fatto è un'invasione di campo la mia, nel senso che sono un chimico e invado il campo nella biologia. Questo perché all'inizio della pandemia erano usciti parecchi articoli, tra cui alcuni position paper, un position paper in particolare, dove legava fondamentalmente il particolato atmosferico quale vettore per la diffusione virale e quindi anche che il particolato atmosferico, il PM10, potesse essere la porta d'ingresso per la diffusione del virus. Questo legato soprattutto al fatto che vi era stato dato una correlazione tra la concentrazione del particolato atmosferico in alcune zone del nord Italia, in particolare la Lombardia, e il numero di inquinanti, cioè il numero di contagi. Cosa è legato a tutto questo? È legato a un fatto che molti di noi ci sono posti il problema di ricercare effettivamente il virus. Molte agenzie hanno chiesto che all'interno delle proprie strutture si ricercasse il virus e per questo abbiamo messo in piedi un tentativo di ricercare il virus all'interno proprio del particolato atmosferico. Diciamo che nell'occasione della pandemia, di fatto, abbiamo avuto delle manifestazioni che sono state molto simili alle manifestazioni che avvenivano nel passato con i fenomeni di peste o così questo tipo. Di fatto, per esempio, è molto simile all'esempio dei miasmi che in alcuni casi si raccontavano per la diffusione della peste. Quindi, di fatto, abbiamo perso un po' forse le nostre conoscenze scientifiche per in qualche modo cedere al pathos del momento. Quindi, per fare tutto questo, naturalmente, abbiamo un po' confrontato anche ciò che c'era già in letteratura. Ci sono state altre agenzie, per esempio l'Agenzia del Piemonte, che ha fatto un lavoro emerito, diciamo, in questo ambito. In altri casi abbiamo anche, siamo andati a vedere cosa era stato fatto in letteratura precedentemente. Per esempio, negli Stati Uniti, in precedenza, era stata correlata la polmonite, la polmonite atipica, non SARS, con il particolato atmosferico. Avevano, di fatto, riscontrato che in percentuali molto basse, diciamo, vi era un aumento delle polmonite atipiche nei momenti in cui vi erano, di fatto, delle concentrazioni elevate di particolato atmosferico, quale il PM2,5. Questo in pre-pandemia. Non avevano, di fatto, legato la diffusione della polmonite tramite il particolato, ma il fatto che il particolato atmosferico potesse, in qualche modo, legando anche magari delle infiammazioni o cose di questo tipo, a, diciamo, facilitare l'ingresso di determinati virus. Ricordiamo che, comunque, diciamo, nell'aria vi sono molti inquinanti, oltre al particolato atmosferico, che danno fenomeni di irritazione alle alte vie respiratorie e anche in profondità. Per esempio, qui vi ho rincato l'ozono, pedosso più gli ossidi d'azoto, la media solforosa. Ci sono dei lavori e meriti fatti da un professore di Trieste, Nimis, che legava, effettivamente, tutta la parte della concentrazione dell'anidia solforosa con le malattie respiratorie, laddove, quando c'era una concentrazione di anidia solforosa molto alta in aria. Quindi, ci sono molte sostanze che, di fatto, qua non mi si muove più il mouse, che di fatto davano l'idea che ci sono degli inquinanti all'aria che promuovono le malattie respiratorie. Qui vi ho riportato, come vi ho riportato in qualche slide questa mattina ai colleghi biologi, la grandezza, diciamo, delle varie, dei vari, sia delle spore che delle alghe, di batterie ed altro, pollini. Quindi, di fatto, quando noi andiamo a trovare il PM10, il PM2 e mezzo, troviamo un coacerbo di tantissime sostanze, come abbiamo visto nelle varie immagini dei SEM, ma è piuttosto che in altro. Quindi, quel che noi possiamo, non è peregrino al fatto che potevano esserci anche dei virus e dei virus che potessero in qualche modo entrare all'interno del nostro organismo. Di fatto, noi abbiamo già delle manifestazioni che nel passato si sono e nel presente, vi sono per la, diciamo, la contaminazione virale o batterica. Vi ricordo, per esempio, il batterio della Legionella, su cui molte delle nostre agenzie sono impegnate per la tipizzazione ed altro, che viene trasmesso fondamentalmente per via aerosol, tramite l'aerosol di acqua, diciamo, soprattutto, o comunque di goccioline liquide, insomma. Ma ricordo, per esempio, il batterio della febbre Q, che è una delle manifestazioni più importanti, è venuta vicino ad Utrecht, dove la contaminazione è avvenuta tramite, proprio tramite l'aria, perché veniva disperso lo strame di alcune, di allevamenti di capre, e questo veniva trasportato dall'aria in formato di particolato e veniva respirato da persone che con le capre non avevano niente a che fare, insomma. E quindi abbiamo avuto anche una diffusione di questo, ma ce ne sono tantissime altre, ricordo anche le spore, per esempio i vari aspergili e l'altro, che i biologi mi insegnano, possono creare anche fenomeni molto gravi fino alla morte, insomma. Quindi ce ne sono molti. I batteri, la dimensione del batterio della SARS è attorno ai 100 micrometri, quindi ai 0,1 micrometri, quindi ai 100 nanometri, e quindi può, diciamo, penetrare tranquillamente all'interno delle vie respiratorie fino a penetrazioni profonde. Di fatto può essere anche veicolato con altre polveri, quindi di fatto è un virus che non può essere trattenuto anche dalle altre vie respiratorie, ma può andare anche all'interno dei polmoni. L'esperimento che avevamo messo in atto sono stati di fatto in due sessioni indipendenti. Abbiamo utilizzato la stessa, grazie anche al contributo e al fattivo, poi nella bibliografia vi citerò alcuni lavori, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Università di Perugia e dell'Università di Padova. Abbiamo messo a punto un metodo che è lo stesso metodo che adesso è utilizzato, noi qui stiamo parlando di aria, ma è stato utilizzato nelle acque, per esempio, se non forse l'avete sentito come acronimo, è il progetto SARI che ricerca il virus all'interno dei reflui, quindi abbiamo utilizzato lo stesso criterio per la ricerca anche del virus all'interno del particolato atmosferico. La ricerca di fatto è stata fatta per la ricerca dell'RNA, quindi dell'RNA che non sappiamo se sia vitale o meno, è stata fatta in due periodi distinti, una prima fase dove sono stati raccolti dei campioni di PM10 su filtri in fibra di quarzo, di PM10 e anche di PM2.5 su filtri di quarzo, e su questi sono stati sottoposti ad estrazione e ad analisi all'Istituto Supervisionalità e all'Università di Padova. In un altro periodo successivo, nel periodo di novembre del 2011, quando c'era in Veneto, ma un po' in tutta Italia, c'era stato un aumento dei contagi, abbiamo rifatto i campionamenti. In questo caso abbiamo utilizzato sì i campioni della qualità dell'aria abituali su filtri di quarzo, ma abbiamo fatto anche dei campionamenti su altro materiale, su filtri in teflon, per capire la differenza di estrazione del virus stesso. I punti critici di questa ricerca sono stati fondamentalmente il filtro da utilizzare, sembra banale, ma la tipologia di filtro poi influenza di fatto l'estrazione e anche l'analisi. Lo stress di campionamento, nel fatto che quando noi andiamo a campionare ad alto flusso o anche a medio flusso, abbiamo una depressione di fatto e quindi la possibile distruzione di tutto l'apparato virale, diciamo, e quindi anche dell'RNA, insomma. Il fatto che vi sia un tempo di conservazione, sappiamo che i virus al di fuori del corpo, molti di questi, sopravvivono poco, e la temperatura di conservazione. Poi, naturalmente, sono state fatte tutte le prove per l'estrazione dell'RNA e i possibili interferenti in fase estrattiva, insomma. I sistemi di campionamento che abbiamo utilizzato sono quelli abituali, però abbiamo utilizzato anche una testa ad alto volume con campionamento attorno ai 500 litri al minuto e questo li abbiamo utilizzati su filtri in Teflon da 150 mm. Il metodo di analisi è qui riportato, non ve lo vado a leggere, ma di far anche perché non è. La cosa interessante invece è la figura, nel senso che il campionamento viene fatto su quarti, cioè abbiamo fatto un campionamento a quarti e questo è interessante per dopo il proseguo dell'indagine che abbiamo tentato. L'amplificazione avviene tramite ormai PCR in real time e l'analisi avviene naturalmente, la parte analitica va a misurare la florescenza del sostanza florescente che è legata all'RNA estratto, insomma. E anche qui non vado a discuterne perché vi annoierei e basta, insomma. Invece vado ad individuare il cuore della sperimentazione successiva che abbiamo fatto, cioè a capire se quei dati che abbiamo ottenuto erano dati affidabili. Abbiamo fatto delle prove su filtro in quarzo, filtro in Teflon e via di seguito facendo quello che si fa abitualmente in chimica, cioè di mettere un marcatore prima. In questo caso il marcatore non era una sostanza chimica, ma era una sostanza virale, era il mingovirus che è modificato, diciamo, che ha un diametro un po' più piccolo rispetto al diametro, diciamo, del virus SARS, della SARS, e questo l'abbiamo fatto, se vi ricordate la foto divisa a quadranti, l'abbiamo fatto su un quadrante del filtro stesso. Quindi abbiamo fatto una, diciamo, un'introduzione virale su un quadrante prima del campionamento stesso, poi successivamente al campionamento prima dell'estrazione. Quindi abbiamo utilizzato due quadranti per verificare il recupero fondamentalmente del mingovirus. Vi vengo alle conclusioni velocemente, senza tediarvi molto. Il problema principale è che, per esempio, i filtri in quarzo, quindi tutte le prove che sono state sperimentali, che sono state fatte su un filtro in quarzo, hanno delle difficoltà, perché l'estrazione fondamentalmente è molto, diciamo, difficile, perché il quarzo rilascia delle microfibre ed altro che vanno a interagire con l'analisi, con la PCR. Ma non soltanto, anche la polvere, di fatto, del particolato, va a interagire con l'analisi stessa. Quindi abbiamo visto che il problema principale legato a filtro e polvere possono, diciamo, inficiare i dati stessi. La soluzione migliore che abbiamo trovato è quello dell'utilizzo dei filtri in Teflon, fondamentalmente, e una diluizione del campione prima dell'analisi, cioè del fatto che con anche un decimo, diciamo, diluendo di un decimo l'estrazione, si riesce ad avere una magnificazione dell'RNA, tale per cui si riesce anche a fare delle analisi quantitative abbastanza precise dell'RNA stesso. Tant'è che abbiamo avuto dei recuperi di vengovirus anche superiori al 90%. Questa, diciamo, è stata la parte sperimentale successiva successiva all'analisi e alle pubblicazioni che avevamo fatto. Questo, diciamo, ha in qualche modo validato il sistema e ha fatto, diciamo, in qualche modo... No, no, va, va, esce tutta la vestita. ...di tenere utile anche la ricerca del virus all'interno del particolato. Vi sono molti altri lavori che sono stati pubblicati sulla ricerca del virus. Si può dire comunque che le concentrazioni virali all'interno del PM10 e del PM2,5 non sono tali da produrre, diciamo, contagi, perché le concentrazioni sono molto basse. Tra l'altro la PCR non discrimina l'aspetto vitale del virus rispetto al fatto che questo virus non sia vitale. e il lavoro abbastanza interessante che potrebbe proseguire sarebbe quello di introdurre intanto metodi di campionamento a livello indoor dove effettivamente avviene il contagio. Questo, l'Arpa Piemonte aveva già fatto un lavoro, ha pubblicato un lavoro su questo per tracciare una linea, ma l'altra cosa è quella di riuscire a capire se lo stesso metodo può essere utilizzato sia per altri virus che per altri batteri, dal momento che la PCR fondamentalmente è una tecnica in realtà, è una tecnica potentissima che può consentire chiaramente un ampio spettro di controllo. insomma, vi metto, vi ho posto qui i lavori fatti, alcuni dei lavori fatti a livello italiano, i primi due sono fatti dal gruppo del Veneto, insieme con l'Istituto Superiore di Sanità e con l'Università di Perugia. Gli altri, ne ho citati degli altri, per esempio quello di Bergamo che derivava appunto da quel position paper che di fatto però è stato smentito con prove, diciamo, sperimentali. Niente, io vi ringrazio, mi scuso che la presentazione non era così, diciamo, efficiente, ma l'altra cosa che vi volevo dire è che alla fine dell'Ottocento, verso la fine dell'Ottocento c'era tale Spallanzani, che noi adesso conosciamo solo per nome, per gli ospedali, ma che il tipo aveva già confutato, diciamo, il fatto che la tesi aristotelica dell'autogenesi, diciamo, dei virus o batteri, o diciamo, lui non li chiamava tali, ma insomma, dei microrganismi, e quindi dico, probabilmente, dall'ora ad oggi, dobbiamo forse ogni tanto ridare un po' di spazio alla scienza e farla sentire anche sulle pagine dei giornali in modo un po' più pesante, insomma, ecco. Grazie. 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 Grazie.